Se pensiamo all'uomo più ricco d'Italia sappiamo che si tratta di Giovanni Ferrero Ma la donna più ricca d'Italia invece chi è? Di lei si sa poco, difficilmente appare in pubblico e scommetto che raramente ne avete sentito il nome Si tratta di Massimiliana Landini Aleotti, la proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini Alla morte del marito Alberto Aleotti nel 2014, Massimiliana e i due suoi figli hanno ereditato la società Quindi di base, lo dico io prima che lo facciate voi, è un'ereditiera Menarini oggi è la più grande azienda farmaceutica italiana per fatturato Parliamo di un giro d'affari di oltre 4 miliardi di euro nel 2022 Alberto Aleotti ha assunto la direzione generale dell'azienda nel 1964 E a lui si deve il merito di averla fatta crescere e diventare un colosso di settore All'inizio degli anni 90 è riuscito poi a rilevarla dai titolari E adesso che hanno ereditato la società, Forbes stima che Massimiliana e i suoi figli abbiano un patrimonio di oltre 7 miliardi di euro